Presidente, è passato un mese, non è più Presidente, il suo stile di vita è più sereno? Fondamente cambiato, non c'è dubbio. Qua molta gente che mi inconda mi dice ma ti vedo sereno, ti vedo tranquillo, ti vedo rilassato. Non c'è dubbio. La tensione infernale nella quale ho vissuto per quattro anni e mezzo, gli ultimi due ancora più forti, grazie a Dio è cessata e quindi viviamo da cittadini quasi normali, quasi normali, piano piano si andrà recuperando sempre più di questa normalità e quindi si cominciano a fare altre cose ovviamente. Altre cose fra queste insomma anche il suo grande amore, quello delle arance, innanzitutto che stagione è, anche climaticamente, un inverno un po' particolare? No, grazie a Dio tutto bene perché è piovuto quanto basta, non ci sono stati danni, non ci sono state piogge torrenziali, almeno dalle nostre parti e questo è servito. Non è un'annata buona per le arance perché la produzione è abbastanza scarsa, ci sono arance di buona qualità e di buon calibro ma purtroppo sono troppo poche e quindi quando il prezzo è buono le arance sono poche, quando sono molte il prezzo non va, bisogna attrezzarsi. Io sto studiando, per la verità ho studiato tanto tempo quindi vorrei passare alla fase operativa, la possibilità di mettermi insieme ad altri per commercializzare. Ha già pensato al nome? San Arance e Lombardo no? No, niente di particolare da questo punto di vista, troppo presto per pensare a Marchi, diciamo che siamo in una fase sperimentale. Invece passando alla politica ho utilizzato fase sperimentale, il governo Crocetta ancora si deve insidiare come giudica da lontano, da vicino a seconda dei punti di vista questi primi movimenti? Sì, che giustamente il presidente si circondi di uomini di sua fiducia è un suo diritto e anche un suo dovere, è chiaro si collabora con la persona di cui ci si fida, che abbiano titoli, competenze, capacità e che quindi possano aiutarlo a far bene. Mi spiace che stia passando il messaggio, non so se è dovuto a Crocetta o a qualcuno che gli sta accanto, che bisogna non essere amici miei per poter avere un ruolo o un posto al sole, questo è sbagliatissimo anche perché se ne accorge Crocetta tra coloro i quali sono stati con me amici o non amici c'è gente di altissimo livello, di qualcuno purtroppo lui si sta privando, mentre sta mantenendo gente a cui è stato chiesto di cambiare aria o bandiera, veramente scarsa, gente scarsa, se ne accorgerà prima o poi, perderà del tempo e poi correrà i ripari. Per concludere il suo partito, come sta il presidente? Con Pistorio? A parte, voglio dire, Leanza già diverse settimane fa, qualche problema con D'Agostino? Che futuribilità possiamo... Il partito dei siciliani è un movimento per l'autonomia e diciamo che ha vissuto una fase difficilissima che ha portato al 9,5% alle elezioni e ad altri due punti, due punti e mezzo da accreditargli perché secondo me una parte anche del risultato del nuovo polo per la Sicilia è da accreditare al partito dei siciliani. Non governerà indubbiamente questo, ma si sapeva anche prima, la gente che se non sente il calduccio del governo si sente male e è messo nel conto che se ne andrà. Si vede che non credeva nell'autonomia e si vede che non stava nell'autonomia per far politica ma bensì per governare, per avere i vantaggi del potere. Mi auguro che Crogetta, ma non mi faccio molte illusioni, non si carichi del fardello della gente abituata a cambiare aria quando gli conviene opportunisticamente. Dopodiché credo che quanti ci stanno, la gente che ci credeva continuerà a muoversi all'insegna di questo partito dei siciliani. Io, che non concorrerò più a nessuna carica né elettiva né quant'altro, darò una forte mano. Mi è stata chiesta e quindi lo farò senz'altro, senza incidere sulle scelte che una classe dirigente nuova dovrà adottare, in questo momento che è impegnativo al massimo, siamo alla vigilia di una riforma elettorale, tante primarie nei grandi partiti, Montezemolo, politiche, nuovi soggetti politici. E ne pensa di Montezemolo? Scenderebbero in campo. Non ho capito cosa farà, lui non si candida, non so se farà una lista. Si richiama a Mondi che chiaramente resterà fuori dalla mischia, quindi può darsi che non farà nulla, quindi chiedere un giudizio su questa cosa mi porterebbe a delle risposte quantomeno azzardate. Renzi o Bersani? Nessuno dei due, perché ovviamente non mi appassiona la cosa, non c'ho neppure pensato. Devo dire che invece guardo con interesse a questa democratizzazione del Partito Siciliano e MPA, che porterà il 22 di dicembre a un congresso fatto attraverso internet. Mi auguro che migliaia di persone possano votare e che si passi, questo sì, non da un partito lideristico ad un altro partito lideristico cambiando il leader, ammesso che quello nuovo ne avesse i titoli, ma da un partito lideristico a un partito democratico. chi si iscrive anche attraverso il web avrà il diritto di votare, si presenteranno dei candidati liberamente, magari avremo tanta gente che dirigerà i vari ambiti del partito, che non ci si aspettava, ma credo che questo sia un innesto di energie nuove che sarà molto importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.